Presentato a Palazzo Zimbardi, il milanese è l'unità d'Italia, un prestigioso volume promosso dalla provincia di Milano che racconta la centralità politica, culturale e militare del territorio milanese nel percorso che ha portato l'unità d'Italia. Nel cortile di Palazzo Zimbardi si potrà ammirare fino al 18 marzo l'installazione Scalata Italia, incentrata sul tema del 150 enario. La struttura è costituita da placche metalliche che nell'insieme compongono la geografia dell'Italia. È un'opera di Dario Milana, un'opera bella, significativa, indica lo sforzo per unire la nostra Italia ma indica anche che forse c'è ancora parecchio da fare prima di arrivare a un'unità che sia reale, completa. Quello che noi abbiamo voluto significare è che all'interno dei 150 anni, tutte le commemorazioni fatte per i 150 anni dell'unità d'Italia non deve sfuggire il fatto che è faticoso unire un paese così allungato e per certi aspetti dal punto di vista culturale e storico con forti differenze. Però quello che vogliamo è che ci sia un'Italia unita e che quindi si raggiunga giorno dopo giorno questa possibilità di unione sempre più forte e reale al di là degli aspetti di forma. Scalata Italia vuole rappresentare questa sorta di sensorialità che il pubblico prova salendo, vive in prima persona, rappresenta un po' la fatica che si è dovuto applicare per raggiungere l'Unità d'Italia. E in più questo percorso da terra a cielo vuole anche rappresentare un po' l'unificazione d'Italia dal sud al nord, quindi un'opera un po' particolare che abbiamo voluto così mettere nel nostro palazzo in occasione delle conclusioni delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia. E con le sue mani è anche un libro che parla del contributo dei milanesi all'unità. Esatto, abbiamo voluto concludere le celebrazioni dei 150 anni con questo volume, il milanese dell'Unità d'Italia, storia delle imprese risorgimentali avvenute a Milano e nel suo territorio, la dimostrazione di come Milano e la sua provincia siano state centrali nella riunificazione dell'Unità d'Italia.